Non ho trovato un figlio di cane disposto ad aiutarmi in questo paese. Hanno tutti una paura maledetta. Ma non c'è un uomo che... Ehi... No, no. Sì, sì, invece. No. Un dollaro al giorno. No. Con le munizioni. Con vitto e alloggio. Il vecchio Jonathan cucina bene, sai. Eh? No. E allora alza le chiappe da quella sedia e vattene!